Buon sabato 18 marzo. Viviamo tempi di grandiosità, di ostentazione di se stessi, ma anche di delusione relativamente alle aspettative che abbiamo. E questo è espressione di una modalità di interpretazione dell'esistenza all'insegna della supponenza. Sì, noi supponiamo di essere delle persone capaci di grandi imprese. Siamo un pochino esagerati. Poi l'esagerazione la vediamo negli stati di intossicazione o nelle punte estreme della modificazione dell'umore verso l'alto o verso il basso, oppure nell'altalenarsi dell'umore, quella dimensione che viene definita sbrigativamente sindrome bipolare. Tutti luoghi caratterizzati dall'assenza della capacità di stemperare e moderare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Tutto questo nasce per ragioni largamente oscure. Sì, conosciamo le conseguenze che possiamo riscontrare nel nostro funzionamento biologico, in quelle realtà caratterizzate appunto da una sintomatologia comportamentale, emozionale, sentimentale, ideativa. pensate a quanti hanno come loro aspirazione massima di diventare dei leader supremi, che governano una nazione e immaginano di essere i protagonisti di una stagione irripetibile. «La loro è la più importante nel bene e nel male». Addirittura il nostro primo ministro si è permesso di dire che è stato un po' sfortunato a dover governare in questa fase epocale. Mai se ne era conosciuta una così sfortunata come questa, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il teatrino della grandiosità è stato messo in scena. Quindi qualunque cosa io faccia mi trovo nella realtà più difficile da affrontare, dimenticandosi tutte le crisi che questo paese ha conosciuto. Il terrorismo, le alluvioni post-belliche, le crisi energetiche degli anni settanta. Qualcuno gli dovrebbe presentare un pochino il quadro della storia di questo paese perché o non lo conosce oppure semplicemente lo elude, lo rimuove. Non è il punto più drammatico della storia d'Italia che stiamo vivendo. Anzi, vi è una quantità di denaro enorme che è stato messo a disposizione dall'Europa, rispetto alla quale ci troviamo a essere debitori, in parte, non del tutto, come tutti i paesi, avendo ciascuno attinto dal bene comune. Questa è la realtà dei fatti. Ci si dimentica del terrorismo che è stato vissuto di destra e di sinistra. Ci si dimentica di tragedie politiche, la morte di Aldo Moro. Ci si dimentica della crisi economica del 2008, la crisi pandemica, così è stata definita, nella quale sono sorti anche opinioni e modalità interpretative diverse. Oggi apprendiamo dall'OMS che il Covid è assimilabile a una influenza. Non commento, prendo atto. Ma allora, che cosa non ha funzionato in quella crisi profonda? Soltanto le disposizioni relative al distanziamento e alle chiusure? O la causa è molto più remota? E riguarda il dissestamento del sistema di tutela e promozione della salute generato in nome della centralità dell'economia e della gestione aziendale della sanità? La salute non si gestisce con logica aziendale. Non ci sono prodotti dai quali trarre profitto. Ci sono però investimenti anche economici che rappresentano una necessità relativamente a uno degli aspetti fondamentali del bene comune, cioè la salute, il benessere, che non significa assenza di malattia, non significa immaginare un mondo esageratamente descritto come assenza totale di ogni forma di fragilità. No, la fragilità è presente nell'essere umano in ciascuno di noi, non è una categoria speciale. I fragili. Ecco, altra espressione che abbiamo imparato a conoscere, i fragili, che devono essere protetti. No, tutti dobbiamo essere ugualmente protetti. anzi, dobbiamo prima di tutto noi stessi essere attori di protezione. Udolin parlava di autotutela e autopromozione della salute. E non era un'espressione linguistica buttata là a caso. Avrebbe potuto parlare di promozione della salute, di tutela della salute. No, autotutela e autopromozione della salute, perché questo significava un invito a tutti, tutti, nessuno escluso, a farsi protagonisti, di rendere la vita il più piacevole possibile, pur nella consapevolezza che il nostro è un percorso a termine, che siamo esposti ai fattori di rischio. Dobbiamo conoscerli, limitarli, contrastarli in certi momenti, ma questo richiede protagonismo. Semplici atti comportamentali, lavarsi le mani, per esempio, non è un invito fatto in occasione di una epidemia. È pratica quotidiana, è azione culturale. La salute non è patrimonio delle professioni sanitarie. E le professioni sanitarie devono imparare, con moderazione e non con senso egemonico, a cooperare con tutti gli aspetti che caratterizzano la vita umana, sociali, spirituali, economici, culturali, tutti, fino alla vita intima delle persone, il rispetto della loro autonomia inviolabile. Allora sì che si può generare, anche da un punto di vista tecnico-professionale, scientifico, una condizione umana che cerca di percorrere l'esistenza nel rispetto di ciascuno, riconoscendo che la moderazione è fondativa di uno stile di vita improntato alla ricerca della sobrietà. Abbiamo spesso rappresentato la moderazione come un difetto, mancanza di coraggio, arretramento, scarsa autostima. No, la moderazione richiede grande forza d'animo, coraggio, capacità di rinunciare a qualcosa di noi stessi per il bene comune. Questo richiede un grande coraggio nell'umiltà, nella misericordia e nella compassione, cioè nel saper cogliere, nell'incontro con gli altri, i tratti che in qualche modo stanno addombrando l'esistenza di ogni singola persona. Vivere nella compassione e portarci in una dinamica che sia autenticamente comunitaria, questi sono gli ingredienti fondamentali di un sistema di cura. Moderazione, umiltà, misericordia, compassione. Se non ci sono questi elementi, è inutile parlare di amore, solidarietà, amicizia e rispetto della diversità, perché se non ci sono quei prerequisiti che stemperano la nostra tentazione di alterigia, di supponezza e di superiorità, di tensione verso una posizione dominante, ecco che allora anche la politica, così come ogni altro aspetto della vita umana, dovrebbe essere all'insegna del superamento delle leadership. Ci siamo abituati a ragionare in termini di leadership. Cerchiamo il leader massimo, quello che mostra i muscoli, sa parlare con grande capacità, con eloquio convincente. non sappiamo cosa farcene di queste persone, le possiamo sì accogliere nella loro fragilità supponente, non certo odiarli, ma ricondurli alla dimensione condivisa dell'amore. dovremmo dire grazie, ma si faccia da parte, non abbiamo bisogno di leader, non abbiamo bisogno di salvatori della patria, per i credenti c'è già un salvatore, per chi non crede vi è di fronte la bellezza dell'armonia della natura, che è il vero nostro Signore autentico, che ci governa e ci porta con pazienza e perseveranza sulle strade infinite della moderazione. Sapete che è il sabato, prendo spunto dalla lettura del Tao Te Chinga, siamo arrivati al paragrafo 59, mancano ancora un po' di paragrafi, e poi ci sarà anche la lettura delle note, che sono dettagli che svelano molti significati reconditi in questi testi semplici da un punto di vista linguistico, ma molto difficili da interpretare e soprattutto da tradurre nella realtà della vita quotidiana, perché il Tao Te Chinga non è un'ideologia, è una meditazione umana relativamente alle domande fondamentali della vita che invita costantemente alla vita pratica, concreta. Vediamo dunque di che cosa si tratta oggi, leggendo il Tao Te Chinga, le prime righe, per governare bene un paese niente è meglio della moderazione. A questo punto a noi viene in mente le nostre dinamiche politiche, il centro moderato, qui è l'estremismo del compromesso. Dall'altra parte ci sono le forme decise, le forme che potremmo anche definire estreme, non disposte alla moderazione, assolutamente no, vogliono imporre attraverso il bipolarismo un punto di vista assoluto pur non avendo la maggioranza assoluta, anche se l'avessero. comunque dovrebbero rispettare le minoranze, ma purtroppo si è poco inclini a fare questo, inebriati dalla supponenza di un potere che non accetta moderazioni. Il decisionismo al quale richiama anche il sistema dei media cercano costantemente il leader da sbattere in televisione, aumentare l'audience, generare la rissa. Il bipolarismo è interessante perché un disturbo psichiatrico è stato definito sindrome bipolare e se lo ritroviamo nella politica che cosa significa? Che vi è una disperante alternanza di stati d'animo e di gestione politica che non è capace assolutamente a mediare con la molteplicità dei punti di vista e quindi ha ragione il Tau nel dire che per governare bene un paese niente è meglio della moderazione che non coincide con una posizione politica precisa posta al centro, quello immobilismo. Dall'altra parte è devastazione, moderazione significa che ciascun punto di vista è disposto a perdere qualcosa per il bene comune qualcosa che a cui ci tiene qualcosa che lo caratterizza sul piano delle idee e delle proposte concrete. Un uomo moderato si distingue per il suo essere libero dalle proprie idee essere liberi dalle proprie idee non averle sappiamo che ne abbiamo le nostre idee i nostri punti di vista i nostri pregiudizi dobbiamo imparare a liberarcene le idee ci sono esistono è giusto che le coltiviamo ma allo stesso tempo non possiamo imporle e quindi dobbiamo alleggerire il nostro sistema ideologico interessante come non vi sia analogia tra ideologia e idealismo sono due cose totalmente diverse per accedere alla dimensione dell'idealismo che è una costante immagine di giustizia di amore e di armonia per arrivare all'idealismo dobbiamo sgombrare il campo dalle ideologie essere liberi dalle idee ascoltarle e poi essere capaci attraverso l'incontro con il prossimo modificarle modificare se stessi abbiamo un'idea sugli stati di intossicazione immaginiamo che ci siano alcoolisti e bevitori moderati ma per poter incontrare il prossimo all'insegna della moderazione dobbiamo essere capaci di liberarci da questa idea posticcia pregiudiziale che si possa distinguere tra alcoolisti e bevitori moderati essere liberi e per essere liberi dobbiamo metterci radicalmente in discussione a partire dalle nostre idee che poi governano il nostro modo di agire dunque ripeto ancora un uomo moderato si distingue per il suo essere libero dalle proprie idee una postura esistenziale libera e liberante dal fardello delle idee questo non significa non avere punti di riferimento non significa annullare la dimensione dell'etica che è il luogo di rappresentazione straordinariamente capace di mettere in discussione i comportamenti attraverso un'analisi critica prima di tutto del nostro comportamento tollerante come il cielo illumina tutto come la luce del sole tollerante come il cielo nella natura troviamo l'infinita possibilità della tolleranza che illumina tutto come la luce del sole stabile come una montagna cedevole come un albero nel vento stabilità e cedevolezza questo significa flessibilità che troviamo nei materiali quelli più cedevoli sono quelli più stabili quelli più rigidi sono quelli più instabili le misure che è necessario prendere relativamente alla prevenzione non dei terremoti ma delle conseguenze che derivano dei terremoti edificare in una saldezza costituita nella flessibilità dei materiali destinati alla costruzione delle abitazioni esso non ha mete in vista e fa uso di ogni cosa che la vita porta sulla sua strada senza mete senza obiettivi senza programmazione altro difetto che gli esseri umani albergano i se stessi nella presunzione che la propria razionalità sia capace di definire l'evoluzione del futuro no non abbiamo mete il poeta ci insegna che non c'è cammino cioè non c'è una direzione una meta non c'è cammino ma viandante il cammino si fa facendolo non c'è cammino il cammino si costituisce attraverso il cammino e questo richiede la capacità di utilizzare sempre nella moderazione nella saldezza della propria posizione nella flessibilità nella capacità di illuminare l'esistenza ogni cosa che incontriamo nella nostra strada che la vita porta sulla sua strada la vita porta non noi ciò che incontriamo dovrebbe spingere a una intelligenza curiosa esploratrice non possessiva perché ciò che incontriamo non l'abbiamo fatto noi è ciò che la vita ci ha consegnato e quindi non ci sono punti straordinariamente critici che possono caratterizzare un'epoca rispetto a un'altra tutte le epoche sono caratterizzate da questo cammino senza meta dove ogni cosa incontrata è stata messa lì dall'evoluzione della vita niente è impossibile per lui poste quelle precondizioni di moderazione di flessibilità di saldezza di capacità di illuminare di essere liberi dalle idee questo rende tutto possibile perché niente è impossibile per lui poiché si è lasciato andare si può curare del benessere della gente lasciarsi andare non centralizzarsi per definire noi cosa sia il benessere della gente il benessere della gente è il bene comune nessuno è in grado di riassumerlo in sé e centralizzarlo come una madre si prende cura del suo bambino richiede tutto questo un altro elemento che è implicito in questa ultima affermazione che voglio ripeterla niente è impossibile per lui poiché si è lasciato andare si può curare del benessere della gente come una madre si prende cura del suo bambino non abbiamo bisogno di leader abbiamo bisogno di posture esistenziali che richiamino questa immagine della madre che si prende cura del bambino senza forgiarlo a propria immagine e somiglianza prendersi semplicemente cura un invito sommo supremo che dovrebbe caratterizzare una vita nella moderazione capace di governare non di dominare e comandare sull'esistenza buona giornata a tutti